Parla di assoluzione travestita da condanna l'ex governatore della regione Abruzzo Ottaviano del Turco commentando le motivazioni della sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila in relazione al processo Sanitopoli in base alla quale lo scorso 20 di novembre è stato condannato a quattro anni e due mesi di reclusione per induzione in debita la vecchia concussione per induzione modificata dalla legge Severino. Nelle 571 pagine delle motivazioni si legge tra le altre cose che secondo la Corte non può essere ragionevolmente messa in dubbio la credibilità soggettiva ed oggettiva di Angelini e le sue dichiarazioni rispondono positivamente al requisito della precisione avendo fatto riferimento a fatti e circostanze precisi che trovano un significativo aggancio nel succedersi delle vicende politiche, legislative ed amministrative relative al periodo di volta in volta interessato dalle sue dichiarazioni. Tra le altre cose i giudici Aquilani evidenziano che l'ex imprenditore della Sanità al momento delle dichiarazioni eteroaccusatorie non era sottoposto a misure cautelari di alcun tipo sicché non sussisteva neppure tale ulteriore profilo potenzialmente utilitaristico a giustificare quando anche su un piano meramente logico la volontà maturata di aprirsi con gli inquirenti. Dunque sulle affermazioni della Corte d'Appello si riaccende il duello tra accusatore ed accusato tra Angelini e del Turco. Il signor Angelini aveva raccontato di essere stato costretto per ben 27 volte a portarmi affannosamente denaro nella mia casa di Collelongo, ricorda del Turco. La Corte ha ritenuto insussistenti ben 23 episodi contestati su 18 capi di imputazione. Dunque, prosegue l'ex governatore, di 6,2 milioni di euro che Angelini ha raccontato di avermi consegnato in poco meno di due anni, la Corte d'Appello ne salva una quota irrisoria. Ma per la stessa Corte l'impianto accusatorio regge perché l'ex patron del gruppo Villapini, pur essendosi dichiarato vittima di fatti concursivi, con le sue dichiarazioni ha in concreto riferito fatti oggettivamente tali da esporlo a possibili accuse a suo carico, cosa che poi si è verificata nel processo. Quindi sarà ancora sulla credibilità di Angelini che si giocherà l'ultimo atto del processo sulle tangenti nella sanità abruzzese, con del Turco che annuncia che proprio di ciò si occuperanno i suoi difensori nel ricorso per Cassazione, che si celebrerà a Roma lontano, dice per quanto possibile, dalle atmosfere, dagli umori, dai condizionamenti che hanno pesato sulla dinamica degli atti processuali.